la mappa di sposa d'este dopo tanti anni che vestivamo le spose ogni volta ci dicevamo ma guarda a testa ragazza quanta strada ha fatto per venire da noi e ci stupivamo e ci stupiamo ogni volta per dire siamo passati davanti a 100 negozi a 100 cose ma lei ha preso la macchina e ha fatto 100 200 300 chilometri per venire qui abbiamo detto cominciamo a festeggiare questo momento e facciamo mettere uno spillo che che gli fa segnare questo momento e se domani tornerà tra un anno dieci anni troverà il suo spillo e il suo nome ci sono spose che dopo essere venute per il loro matrimonio arrivano dopo qualche anno con un'amica e l'amica mette il suo spillo ma loro dicono questo è il mio è simpatica come cosa e lascia un segno perché tutti noi abbiamo bisogno di lasciare un segno